Papà, anche se abbiamo perso la partita per colpa del mio amico che ha sbagliato il passaggio, non arrabbiarti, tutti sbagliano, anche tu papà. Quante cose ci insegnano i nostri ragazzi. A volte la loro sincerità e correttezza lasciano i genitori perplessi. Dovremmo essere per loro una guida, ma come sempre avviene, sono loro che insegnano a noi. Certo che sarebbe bello il mondo se noi adulti lo vedessimo con gli occhi di un bambino. Anni fa affrontavo una separazione e la conseguenza perdita del lavoro. Vivevo un periodo difficile, quando per cause che non sto qui a spiegare non ho visto i miei ragazzi per un po'. In quel periodo Mr. Fuggetti mi presentò Paolo Blandamura, il quale mi propose in seguito di costituire insieme ad altre persone una scuola calcio. Le condizioni economiche del periodo però non mi permettevano di poter ambire a tale progetto, ma Paolo con molta esistenza e quasi ad aver capito le mie difficoltà, come un vero amico, mi offrì il suo aiuto. Ricordo il primo incontro quel pomeriggio, la conoscenza di Piero, Pino, Rocco, Graziano, Fabrizio e di chi come me, con lo stesso entusiasmo, sarebbero stati i sociafondatori di quella che sarebbe stata la creazione dell'ASD Virtustarento. Ricordo i tanti traguardi raggiunti, ricordo l'abbandono di coloro che non è riuscito a conciliare anche con sacrifici, l'impegno preso con la propria vita familiare e lavorativa. Oggi la mia costanza, quella di Piero, di Paolo, con l'aiuto dei nostri mister, l'ASD Virtustarentum è diventata una grande realtà, una vera famiglia. Grazie a voi genitori che ci sostenete con la vostra collaborazione e sacrifici, che supportato dal nostro sostegno insegnano ai nostri ragazzi il rispetto reciproco, il valore dell'amicizia, unito al gioco di squadra e quindi al divertimento per vederli sorridere, gioire e crescere. Per quanto sia breve la mia esperienza, il passare degli anni mi ha messo dinanzi a dirigenti gruppi, allenatori irritabili e tifosi sguaiati, che hanno fatto perdere il sorriso ai giovani calciatori, colpevoli esclusivamente di percepire ciò che l'adulto, talvolta inconsciamente, contro la propria volontà, trasmette. Loro, loro che hanno come unico desiderio quello di divertirsi, con un pallone tra i piedi e in un ambiente sereno, non hanno bisogno di strutture che trasmettono la smania per la vittoria, hanno il diritto di sentirsi ripetere che la vittoria più grande consiste nel non adattarsi alla scorrettezza altrui, non hanno bisogno di sentirsi calciatori professionisti di piccola taglia, hanno bisogno di strutture che li dicono il rispetto e che insegnano loro la differenza tra voglia di far bene e ossessione per vincere. Hanno il diritto di ricevere un programma di lavoro ludico, che sia incentrato su obiettivi a lungo termine. Noi, che ci difendiamo i ducatori, anche noi abbiamo il diritto di gioire, godendo dei loro miglioramenti e delle soddisfazioni che a livello umano ci donano ogni giorno, con il loro entusiasmo, i loro sorrisi e il loro affetto incondizionato. In questo quadro, a tente e fosche, gli allenatori della scuola calcio dovrebbero essere la soluzione, o almeno il primo riferimento vero e palido. Un gruppo di adulti con la testa sulle spalle, che condividendo gli stessi valori, possa essere un illuminante esempio di squadra. Favoriamo lo sviluppo della cultura sportiva, sosteniamo il motto per cui il gioco è divertimento e soprattutto diffondiamo l'idea che lo sport è il mezzo più immediato per imparare la vita. Un ringraziamento speciale per tutti i bambini, che continuano a regalarmi grandi soddisfazioni, indipendentemente dai risultati sportivi ottenuti, e a tutte le persone che mi hanno aiutato. Un buon Natale, bambini, un buon Natale ai genitori, un buon Natale a tutti. Per far felice un bambino, bastano un pallone ed un maestro che si ricordi di essere stato un bambino. Tanti auguri. Tanti auguri.